Il mio nome è Francesca Di Gangi, 45 anni, vengo da Catania, nata a Caltanissetta di padre di Pedra di Sottana, madre di Re Sottano, pura razza bastarda, sicule. Ida, lei è Francesca Di Gangi, io sono Giovanna Schillaci, lei ha la laurea, c'è il master, io ho fatto la quinta elementare, la terza media, figlia, poi mi fidanzai, mi maritai, fici una figlia e c'è pure un sogero senza pensione. Qualche giorno fa, sfogliando uno dei tanti libri che frequento, c'era un test, era un libro di psicologia junghiana, un test sugli archetipi, bello, lo faccio, non sto qua a raccontare gli archetipi 12, risulto essere cercatore, il mio archetipo maggiore, l'archetipo maggiore di Francesca è il cercatore. Bello essere cercatore, io faccio panelle, da mattina a sera, no, 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 soltanto panelle, panica a meusa, crocchè, cazzilli, io pure vorrei fare il cercatore. Una cosa che mi piacerebbe fare è viaggiare, che bella crociera. Solo che io vorrei andare in Tunisia, e mio marito mi disse che ci vuoi fare in Tunisia, che ci sono i neri e sono lordi, e io ci ho risposto sì, neri sì, ma lordi no, non è political di correct, si dice così no? Grazie a tutti.